Alle 20 del 22 agosto scade il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Giochi apparecchiati per la partita elettorale con Fratelli d'Italia, ultimo partito a sciogliere gli ultimi dubbi, decidendo di piazzare Luci Albano e Antonio Baldelli, ovvero il fratello dell'assessore regionale Francesco, nelle posizioni elegibili al proporzionale alla Camera, così come l'assessore Guido Castelli schierato come capolista al proporzionale per il Senato. Un Senato proporzionale in cui competitor capilista saranno Alberto Lossacco del Partito Democratico e Mauro Lucentini della Lega. Il partito di Salvini schiererà invece Riccardo Marchetti al proporzionale della Camera, un listino in cui ci saranno Irene Manzi e Augusto Curti per il PD, Valentina Vezzali per Forza Italia e Giorgio Fede per il Movimento 5 Stelle. Quest'ultimo sarà candidato anche nel collegio uninominale di Fermo Ascoli. Nel collegio uninominale di Macerata spicca invece la presenza di Giorgia Latini, seconda dei tre assessori regionali della Giunta Acquaroli candidati al Parlamento. Il terzo assessore candidato è il vicepresidente della Regione Mirko Carloni a rappresentare il centrodestra nel collegio uninominale di Pesaro Urbino. Provincia in cui all'uninominale vedrà la sfida con Giordano Masini di Più Europa, schierato per il centrosinistra, con la fanese Rossella Cotto per il Movimento 5 Stelle e con Federico Talè in rappresentanza del terzo polo composto da Azione e Italia Viva. Per il collegio uninominale Marche Nord del Senato, partita aperta fra Antonio De Poli dell'Udc che rappresenterà il centrodestra, Marco Bentivogli per il centrosinistra, Samuela Melini per il Movimento 5 Stelle e l'avvocato pesarese Elena Fabri di Azione in rappresentanza del terzo polo. Grazie a tutti.